Piero Mirabelli, con il segno di persone di Italia, da buona giornata in giro per l'Italia, Mirabelli sentì la voglia di avviare i giovani cadanzarese a questa disciplina, ha tentato in vari modi, in verità senza fortuna, fino a quando tesserando alcuni atleti con la fiamma Vibo vinse diversi titoli nazionali. Nel 71 si accese anche la fiamma al cadanzaro e dagli anni 80 Mirabelli crede un gruppo di mezzofondisti tra i migliori d'Italia, forandone personalmente la preparazione atletica.